il tiro di Elmas è il miracolo è il miracolo di Zommer che si tuffa sulla sua sinistra esterno destro del Macedon Elmas con il piede caldo dopo Bergamo e Zommer fa davvero una parata che ha del miracoloso qui c'è Quaraschelia, ha un po' di campo davanti a sé gli si para davanti Dunfriss, ma qui c'è lo punta tocco corto per Elmas il tiro cross e respinge Zommer disteso e consente alla difesa interista di affanno di recuperare Quiscia, Quaraschelia può puntare la porta si allarga Politano, Politano, Politano si accentra, Politano, il tiro traversa traversa di Politano di sinistro Zommer battuto Zommer battuto la palla si è infranta sul montante della porta interista grandissima iniziativa personale di Politano servito da Quaraschelia Turam, Turam l'uno contro uno Turam si defila poi si allunga un po' la palla Di Marco palla adesso per Di Marco il cross al centro dell'area di rigore a cercare Dunfriss di testa che prova per Barella si il tiro gol gol Dal ciala cialo 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 anghissà palla per Rosimane bello il movimento di Rosimane ebbè è arrivato prima ebbè è arrivato prima attenzione il tiro è la parata di Zommer su diagonale di qui c'è ancora Schaglia però io quel contatto su Osimè lo voglio rivedere perché lì arriva prima Osimè arriva prima dell'interista fammelo rivedere questa azione Osimè dribbla netto a Cerbi lo salta ma non c'è non c'è niente dai che buona Lautaro Martinez che cerca il centro sì palla in mezzo sì sì l'ha usato per Pabella e da gol e da gol e vai Inter e vai grande Inter così si fa così la grande squadra errore e vai i gol in terza se noi i gammel loro sì tra doppio ora doppio dell'Inter noi giochiamo il loro segno notaro Michele continua il possesso di Pabella dell'Inter a quadrato solissimo solissimo possibilità e dura 0-3 e sono tre 3 bomba si vuole 3 bomba 3 bomba 3 bomba perché è una punizione che non sta neanche 3 bomba 3 bomba 3 bomba 3 bomba Paolino sono stati 0-3 0-3 e vai Inter Paolino 0-3 da quant'è che non vincevamo il Maradona è da un po' ma infatti è sempre meglio ribaltare questi dati a